Non aver trovato ancora un sostituto di Roberto Marin è segno che le acque dentro la maggioranza in consiglio comunale e in giunta a Bassano non siano così tranquille. Il terremoto delle dimissioni di Marin ha effetti già chiari e pesanti nel partito di maggioranza che ha rinnovato in questi giorni il direttivo e la segreteria cittadina guidata ora dall'assessore Andrea Viero. Le scosse provocano una vittima eccellente ovvero la sindaca Elena Pavan che dal 2017 faceva parte del gruppo dirigente del carroccio cittadino. Ora la prima cittadina di Bassano non c'è più anche se molti volti sono stati confermati. Dopo cinque anni la persona che oggi rappresenta l'intera comunità bassanese non fa più parte del gruppo dirigente del suo partito e questo qualcosa vorrà pur dire.